Buon pomeriggio, ben ritrovati da Via Sigelgaeta. Ospiti della tappa di viaggio nei quartieri, gli studenti, i docenti, il dirigente scolastico dell'Istituto Genovesi Liceo Scientifico Da Vinci. In realtà siamo noi che siamo ospiti loro nel nostro tour tra i vari rioni della città di Salerno e tra le varie scuole. Abbiamo scelto di essere qui oggi per mostrarvi la faccia di questa scuola che è balzata a suo malgrado, agli onori della cronaca per un brutto episodio, un episodio di cronaca. Ma qui siamo qui oggi con gli studenti, con tutta la scuola per mostrarvi quanto di buono si fa ogni giorno tra queste aule didattiche e quanto di buono si è fatto anche da un punto di vista strutturale. Dopo chiederò aiuto al dirigente scolastico per raccontarvi la scuola da tanti punti di vista. Naturalmente lo faremo anche con l'aiuto degli studenti che ci racconteranno i diversi percorsi didattici, scolastici, innovativi che vengono effettuati ogni giorno tra le aule di questa scuola che vuole andare avanti. Il show must go on si dice, no? E appunto a partire dall'episodio bisogna voltare pagina. I ragazzi hanno iniziato un percorso e parleremo anche delle iniziative che vogliono attuare per cercare di superare quello che è stato un brutto momento nella storia di questa scuola. Un percorso che possiamo dire in qualche modo è stato aperto nei giorni scorsi con la partecipazione del Vescovo di Salerno ad un'iniziativa che era stata programmata da tempo e che è stata ospitata proprio nella scuola. E anche noi partiamo proprio da questo. Vediamo. A voglia di cancellare presto e velocemente una brutta pagina della sua storia la scuola che ospita l'Istituto Genovesi e di Liceo Scientifico Da Vinci. Balzata agli onori della cronaca per l'accoltellamento di uno studente da parte di un suo coetaneo tra i corridoi, la scuola oggi vuole cercare di riportare pace nella sua comunità con una ferita che è aperta ed è in via di guarigione. Il primo passo è avvenuto lunedì scorso quando per un incontro già in programma da tempo a varcare la soglia della scuola è stato l'Arcivescovo di Salerno Luigi Moretti. Un messaggio di speranza il suo sia per i docenti che per gli alunni. In una sala gremita con circa 200 studenti presenti, il Vescovo salernitano ha parlato di come la violenza non dovrebbe abbergare in alcune strutture, principalmente negli edifici scolastici. Un messaggio civile ed etico, quello lanciato dall'Arcivescovo, con un momento di riflessione nel quale il massimo rappresentante della curia salernitana ha invitato i ragazzi a non lasciarsi andare a nessun tipo di violenza. La scuola oggi riparte da qui per dire che l'episodio non deve guastare quanto di buono si fa ogni giorno tra le pareti di una struttura, dove tra l'altro una serie di interventi hanno anche riqualificato ambienti e locali. Tra le iniziative più importanti ospitate proprio di recente è la Settimana dell'Economia. E allora, come dicevamo, la scuola riparte, la scuola vuole guardare avanti. Io chiedo al dirigente scolastico, Nicola Annunziata, ringraziandolo per l'ospitalità che ha dato alla trasmissione Viaggioni e Quartieri. Da dove si riparte, Preside? Sì, esatto, l'importante è ripartire, riflettere certamente su quello che è accaduto, ma per andare avanti. Adesso, come prossimo appuntamento, proprio in quest'ottica, abbiamo un incontro con il magistrato Gianluigi Morlini, un componente del comitato direttivo della scuola superiore di magistratura. È un'iniziativa che, tra l'altro, si colloca all'interno di un percorso che noi facciamo e di cui magari parleremo meglio, magari con i ragazzi, forse meglio ancora che con me, lo chiamiamo Sapere Aude. E in particolare, appunto, parleremo adesso di legalità. Il tema è cittadinanza e costituzione, un percorso consapevole tra diritti e doveri, l'abbiamo chiamato. Insomma, ci sono tante notizie buone da raccontare. Lo proveremo oggi a farlo anche con l'aiuto dei ragazzi, tanti eventi. Volevo anche, con il suo aiuto, Preside, sottolineare che questa è una scuola dove sono stati anche effettuati degli importanti lavori proprio sull'edificio. Sì, abbiamo avuto dei lavori con finanziamenti europei, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ci hanno consentito di migliorare molto l'efficienza energetica dell'Istituto. Sono stati lavori alla facciata, non solo estetici, ma anzi, con il cosiddetto cappotto termico che consente un miglior isolamento. E anche una sostituzione di molti degli infissi che erano veramente piuttosto vecchi e che ugualmente consentono adesso un miglior clima all'interno dal punto di vista dell'efficienza energetica e dell'efficienza termica per il confort dei ragazzi. Allora, cominciamo a raccontare questa buona scuola. Lo faccio a partire dai due rappresentanti della consulta degli studenti. Anna Paola, siamo qui oggi, come dicevamo anche col dirigente scolastico, per dire che vogliamo andare avanti, tant'è che voi, ragazzi, avete pensato di mettere in piedi una serie di iniziative per superare quanto successo, a partire dalla necessità di avviare un maggiore dialogo, un maggiore confronto, tant'è che vanno proprio nella direzione diciamo di ampliare la comunicazione, quelle che sono le prime idee sulle quali state lavorando. Sì, abbiamo appunto pensato di ideare un cortometraggio basato appunto sulla tematica del bullismo e della violenza, anche appunto per quanto è successo giorni fa in questa scuola e vogliamo proprio che parta da questa scuola un messaggio di protesta contro queste cose che accadono in tutte le scuole d'Italia, possono accadere in tutte le scuole d'Italia, non solo in questa scuola o a Salerno e vogliamo proprio che sia un messaggio che prendano a cuore tutti gli istituti e le scuole appunto di Salerno che insieme a noi possano portare avanti appunto questo messaggio. Ma non solo, oltre il cortometraggio abbiamo appunto pensato di idealizzare un blog che è giusto che proprio nel mondo delle comunicazioni gli studenti si facciano sentire, quindi perché no avviare un blog dove gli stessi studenti possono scambiarsi idee e dire le proprie idee e in più anche avviare un progetto di una radio studentesca. Voi tra l'altro fate anche un corso di giornalismo, ricordatevi un attimo Chiara che voi fate nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, vieni qui, lei è una rappresentante del liceo da Vinci, però nell'alternanza scuola lavoro voi fate un progetto che riguarda proprio il giornalismo. La classe che appunto partecipa a questo percorso. E niente, noi con il progetto scuola lavoro stiamo facendo un itinerario sui luoghi di Salerno medievale per imparare a conoscere meglio il territorio in cui viviamo e quindi dando ovviamente un taglio giornalistico, quindi stiamo iniziando a scrivere gli articoli ad esempio sul Castello Arechi, sulla chiesa di San Pietro a Corte per imparare a conoscere il territorio. Non so se vi occupate di problematiche di ambiente, se ne occupa Viaggio nei quartieri, che spesso è stata sollecitata sulla questione delle fonderie Pisano, uno dei temi più dibattuti nell'ambito delle varie tappe che abbiamo fatto nei rioni di Salerno. Abbiamo spesso parlato anche con il Comitato Salute e Vita. Di recente è stato approntato questo provvedimento che sospende le attività delle fonderie situate nella zona di Fratte. Questa mattina proprio Barbara Albero ha intervistato il titolare delle fonderie. Ascoltiamo. Ferma solo la produzione, ma nel giro di poco tempo ripristineremo la conformità degli impianti. Al momento i lavoratori sono al lavoro, solo se i tempi dovessero allungarsi si deciderà se attivare gli ammortizzatori sociali. Lo ha rimarcato ai nostri microfoni questa mattina l'amministratore delle fonderie Ciro Pisano, incontrandolo nel piazzale dell'azienda che produce Ghisa. A Fratte, dagli anni 60, la fabbrica nella zona industriale si è trovata poi negli anni 2000 in un'area a vocazione urbanistica. Oggi si lavora con le istituzioni, ha rimarcato Ciro Pisano per risolvere i problemi. Noi abbiamo già individuato un'area per lo spostamento. Noi abbiamo avuto una comunicazione dalla Regione Campania che dopo una visita ispettiva hanno trovato alcune macchine che noi abbiamo con impianti che non erano stati perfettamente ma non funzionati e quindi in conseguenza ci hanno riscontrato alcune criticità. Abbiamo ricevuto lunedì questo tipo di indicazione, ci hanno appunto detto di mettere a posto questo e di mettere a posto e nel frattempo ci hanno dato la sospensione dell'attività produttiva. Noi a dire la verità questi lavori già li stiamo facendo, già sono pronti questi lavori, già li abbiamo messi a regime alle macchine, abbiamo messo a regime a tutto, però siamo fermati, appena abbiamo avuto questa comunicazione, questo obbligo di fermo abbiamo fermato la produzione. Tant'è vero come potete vedere oggi la produzione è ferma e quindi di conseguenza stiamo facendo solo le attività che vedete un po' muletti in giro persone appunto per mettere a posto per manutenzione, abbiamo chiamato anche una squadra esterna per darci un manforte, un aiuto. Io penso nei prossimi giorni, forse probabilmente anche nella giornata di domani, manderemo appunto la comunicazione che abbiamo temperato a tutte quante le prescrizioni. Per quanto riguarda le emissioni ambientali che per l'inquinamento delle acque reflue? Allora per quanto riguarda il discorso delle acque reflue è un po' stravo perlomeno, la nostra azienda non produce acqua, nel nostro processo produttivo non ci sono acque, abbiamo delle acque di servizio, sono semplicemente delle acque di servizio, infatti abbiamo riscontrato durante questa visita che c'erano degli addolcitori, una macchina che scarica più o meno l'equivalente di una vasca da bagno al giorno, più o meno questo e che si era rotto questo dubbo e colava nelle fogne del nostro circuito, nelle acque del nostro circuito, che poi si tratta di un'acqua, solo un'acqua e sale piuttosto sommato, quindi noi però quantunque abbiamo uno sicuro di questo problema abbiamo sistemato immediatamente e abbiamo messo a posto, questo è il problema delle acque. Siamo qui da tanto tempo, ascoltavo la signora prima che faceva un'osservazione, diceva che appunto le case sono qui vicine, dubbiamente l'errore è stato forse un po' di programmazione, di mettere casi aziende contemporaneamente, tant'è vero che quando appunto noi abbiamo visto che il Comune di Salerno faceva una serie di interventi, di qualificare in maniera diversa questa zona che è ancora industriale, con possibilità di trasformazione, abbiamo immediatamente cercato un nuovo sito produttivo, un nuovo sito nel Cule nel quale spostare la nostra attività. Uno l'abbiamo determinato, altri stiamo guardando, chiediamo anche pure l'aiuto, abbiamo chiesto l'aiuto anche delle amministrazioni per darci la possibilità o per essere vicino a noi, per fare assieme questo tipo di lavoro, perché noi non vogliamo essere contro il territorio, vogliamo essere a favore del nostro territorio, noi facciamo parte del nostro territorio, quindi io penso che siamo un patrimonio anche noi del nostro territorio in quanto imprenditori, in quanto abbiamo una serie di maestranze molto legate a noi e noi molto legate a queste maestranze con cui noi collaboriamo e con cui lavoriamo. Noi ce la mettiamo tutta, le persone ce la mettono tutta, con le amministrazioni pure stiamo discutendo, vogliamo collaborare, vogliamo discutere per trovare le soluzioni. Voi volete spostarvi, la delocalizzazione voi dite sì, ma non è un semplice trasloco insomma, pare che poi ci siano però degli impedimenti, perché da tanti anni si parla di delocalizzazione e poi alla fine non vi spostate mai? Forse probabilmente, dipenso anche dalla battaglia pubblicità che stiamo avendo negli ultimi anni, che vengono considerate l'azienda, la fondieria Pisano come un'azienda da allontanare, invece di fondieria ce ne sono tanti in giro in Italia, in Europa, non è che siamo noi solo la prima, solo in Italia ce ne stanno 200, noi siamo fra le prime perché siamo abbastanza bravi, abbastanza capaci, però ce ne sono tante, quindi tutte operano, tutte collaborano, tutte lavorano, quindi è questo battaglio pubblicitario che sta avvenendo anche mediaticamente che fa sembrare alla fondieria qualcosa di cattivo. Io voglio spingere una parola su questo argomento, noi siamo molto legati a questa attività, siamo principalmente in questa età, dalla mattina alla sera, quindi siamo noi i primi che dovremo subire i contraccolpi di questo inquinamento, di queste malattie, di queste situazioni. Insomma, al di là di quello che è il provvedimento di sospensione delle attività, abbiamo avuto già modo di capire dalle parole del titolare delle fonderie che la battaglia, in qualche modo la contrapposizione su questo tema continua, viaggio nei quartieri, continuerò a seguirlo, ma torniamo adesso qui nella scuola Genovesi da Vinci per raccontarvela sotto tanti punti di vista. Come dicevamo in apertura siamo qui per mostrarvi le tante facce di una scuola che ogni giorno fa tanto per i suoi studenti, studenti che affrontano anche percorsi didattici innovativi come quello che ci racconta Gigi. Sì, noi abbiamo iniziato questa nuova attività sia per il liceo che per gli studio genovesi che consiste nel fatto che impariamo le materie principali dei due istituti in lingua straniera in modo che gli allunni hanno una formazione già preparata per continuare gli studi. Quindi vi preparate già ad un contesto internazionale, tanto vi preparate anche in maniera, posso dire, in qualche modo pratica. Vito e Giuseppe sono due dei ragazzi che sono stati coinvolti in un progetto che vi ha visti per quattro settimane a Dublino. Sì, ci tenevo a precisare che appunto l'istituto tecnico Antonio Genovesi non è la scuola che si è vista negli ultimi tempi su tutti i telegiornali locali, ma ben altro. Infatti la scuola, grazie anche al corpo docente, ci ha permesso di vivere un'esperienza indimenticabile della durata di quattro settimane a Dublino. Un'esperienza che devo ammettere è stata abbastanza difficile, ma ha cresciuto il bagaglio culturale, anche ci ha aiutato a crescere. Cosa avete fatto a Dublino? Allora, in pratica abbiamo lavorato otto ore giornalmente e per il resto della giornata comunque ci diventavamo in attività sempre inerenti alla conoscenza dell'inglese oppure visitevamo la città. Insomma, un'esperienza molto importante sotto il punto di vista formativo per voi. Sì, perché in pratica ci ha insegnato la lingua, non solo, ma anche quello che sono le altre città, gli altri paesi anche rispetto all'Italia, nuovi stili di vita e ciò che cambia. Io, per esempio, partecipavo all'interno di un'azienda italiana di prodotti di import ed export che, dato che faccio parte dei sistemi informativi, ero un tecnico all'interno dell'azienda che ne aveva bisogno. Molto spesso questa scuola è finita sui giornali, molti ricordano il brutto episodio, però è una scuola, come ci ricordava anche prima il dirigente scolastico Nicola Annunziata, che si dà da fare anche per aprirsi a iniziative, alla partecipazione di personaggi illustri. Ed in modo particolare, proprio di recente, la scuola ha ospitato, Martina, la settimana dell'economia. Sì, è stata un'esperienza molto coinvolgente, in quanto i vari relatori che hanno partecipato ai convegni in questa settimana ci hanno aperto gli occhi su altre nuove diramazioni dell'economia e penso sia una cosa molto interessante. Anche tu, Luisa, sulla settimana dell'economia cosa possiamo aggiungere? È stato un momento di formazione importante, di confronto con esperti di questo mondo, anche un modo di approcciare a questa tematica, a questa materia, con una metodologia nuova, diversa? Sì, personalmente credo che sia stata un'esperienza molto bella, anche perché io ero coinvolta personalmente. Credo che il fatto di poter spiegare ad altre persone, a poter insegnare, quello che a nostra volta ci insegnano a noi, credo che sia una cosa veramente bella. È anche un modo diverso di fare lezione. Allora, Martina, Luisa, che è particolarmente spigliata, voglio chiederle anche una cosa, poi lo farò pure con altri studenti. Noi, Viaggio nei Quartieri, ci aiuta a guardare i rioni della città di Salerno, voi siete di provenienza eterogenea, non specifica di un singolo quartiere, vorrei con il vostro aiuto anche lanciare delle sollecitazioni. Che cosa va migliorato in questa città, secondo te? Beh, personalmente credo che un problema fondamentale della città di Salerno sia la mancanza di sicurezza. Io da ragazza ho un po' paura sinceramente la sera, anche perché giustamente fino a questa età scende, non può stare con la paura di non ritirarsi a casa. Quindi questo, credo. Devo dire che tra l'altro la sollecitazione di Luisa arriva in una settimana abbastanza complicata per la città di Salerno, tantissimi episodi che hanno poi reso necessario anche la convocazione di un comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza, al termine del quale abbiamo ascoltato proprio il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, che ha illustrato quelle che saranno le iniziative che sono state predisposte per migliorare la sicurezza della città di Salerno. Ascoltiamo. Iniziative congiunte tra forze dell'ordine e polizia municipale per rinforzare i controlli in città e rafforzare il clima di sicurezza. Si punta a riorganizzare le competenze e a porre maggiore attenzione per alcune zone grigie della città per preservare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dopo la riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato d'urgenza ieri pomeriggi in prefettura dopo una serie di reati commessi in città. Salerno non è un far west, anche se tutto quello che si sta verificando in questi giorni sta causando un'allarme e una tensione sociale tra le persone. Vogliamo, ha detto il prefetto Salvatore Malfi, non solo rafforzare la sicurezza reale ma anche quella percepita, perché anche quello è un valore. Sentirsi sicuri è importante come essere concretamente sicuri. Ci saranno più uomini in strada, sia in divisa che in borghese, come ha garantito il questore di Salerno Alfredo Anzalone, che confida nella collaborazione dei cittadini. Proprio grazie a loro le forze di polizia hanno catturato alcuni malviventi. non siamo a livelli di guardia, ha rimarcato il primo cittadino di Salerno, ai nostri microfoni. Più che altro ci sarà una riorganizzazione delle competenze specifiche, nel senso che insieme collaboreremo ad una serie di iniziative sul campo, cose che per la verità noi già compiamo ma intensificheremo, per tentare di fare luce su qualche zona grigia con azioni interforze, perché i livelli di civiltà che sono stati raggiunti nella nostra città, nella città di Anzio di Luca, devono essere salvaguardati. Ovvero le conquiste di civiltà non sono aspetti che si conquistano una volta per tutti, ma vanno continuamente invigorite e vanno continuamente preservate. Noi abbiamo un dono prezioso della nostra città che è la sicurezza. La sicurezza è un tema al quale guarda con attenzione anche la neonata associazione ONN che si è presentata nei giorni scorsi, un'associazione a politica, a partitica che vuole aggregare in qualche modo i cittadini salernitani. Noi siamo con Stefano Trapanese e Maria Rosaria Vitiello che ne fanno parte e chiedo a loro subito di dirci quali sono i temi che vorrete affrontare, il confronto che aprirete all'interno dell'associazione. Intanto ONN è un movimento di idee che nasce dallo spirito di iniziativa di alcuni libri cittadini che provengono dal mondo delle professioni. Ci sono artisti, persone provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dalle libere professioni appunto come tanti commercialisti, docenti che hanno deciso di mettere a disposizione della città di Salerno il loro patrimonio fatto soprattutto di idee. Intanto noi esprimiamo la solidarietà al preside del liceo e a tutta la comunità scolastica perché sappiamo che questi sono episodi che si verificano un po' ovunque e sicuramente non dipendono dai singoli protagonisti ma dipendono da quello che è oggi la nostra società che purtroppo è basata molto sulla violenza. Bisognerebbe per questo avviare dei progetti, noi ce li abbiamo, si può collegare sul sito della nostra associazione, ci sono dei progetti che tendono ovviamente a mettere in sinergia quelle che sono le esperienze che provengono dal mondo della scuola, dal mondo delle istituzioni ma ovviamente coinvolgendo anche i cittadini. Stefano, in particolare voi guardate con attenzione ad un'idea di sistema di videosorveglianza? Sì, tutti noi cittadini di Salerno abbiamo notato l'installazione di telecamere lungo tutta la città, cosa manca effettivamente per metterle in funzione e quanto è importante avere una videosorveglianza lungo le strade principali. L'associazione si pone anche come sentinella rispetto a quelle che sono le azioni che vengono intraprese dall'amministrazione comunale? Innanzitutto come pungolo verso le istituzioni, infatti noi al nostro interno possiamo dire in qualche modo di essere apolitici, nel nostro interno abbiamo rappresentato un po' tutto il ventaglio delle proposte politiche, in particolare ci rivolgiamo alle istituzioni raccogliendo le idee di coloro che in qualche modo non hanno voce o non credono probabilmente di averla, cioè tutti i cittadini che attraverso i loro progetti, le loro idee mettono noi in condizione di rivolgerci alle istituzioni, la regione, il comune, la famiglia stessa, anche la famiglia che anzi probabilmente è il vero problema in questo momento perché io ho apprezzato tantissimo la levata di scudi di questi ragazzi che dicono in qualche modo il nostro istituto è un istituto sicuro, però i panni sporchi si lavano in famiglia e questi fatti succedono tra le quattro mura che siano esse pubbliche o private, così come stiamo vedendo in questi giorni. Ma è anche un'occasione per confrontarsi e per aprire queste mura? Assolutamente, noi possiamo solo compartecipare, non vogliamo essere protagonisti in questo ma vogliamo raccogliere le informazioni che ci provengono, le sollecitazioni che ci proverranno dall'esterno. A proposito di sollecitazioni che arrivano dall'esterno, un lavoro che è stato fatto all'interno della scuola, Vincenzo, è quello che la consulta ha portato avanti degli studenti sul tema dei trasporti? Esattamente, come studenti dell'istituto genovese abbiamo incominciato questo progetto che cerca di migliorare le condizioni dei servizi pubblici, in quanto avendo fatto degli screening abbiamo rilevato dei dati che ci dicono molte persone hanno disagi proprio con i servizi pubblici e quindi noi cerchiamo di migliorare, chiediamo aiuto a tutti perché al finale siamo ragazzi che vogliono, diciamo, si va a scuola, muoversi bene, si va a scuola con piacere però questo piacere poi non si trova più quando viene a mancare qualcosa che ti porta ad andare a scuola. Insomma, associazione ON avete già un tema sul quale lavorare per venire incontro alle esigenze di questi studenti. Tra le varie iniziative, visto che stiamo approfittando di questa vetrina anche per parlare delle tante cose buone che fate, c'è Carla anche il progetto Borsa al quale avete partecipato. Sì, in pratica questo progetto si chiama Conoscere la Borsa a cui la nostra scuola ha aderito e ci è stato offerto dalla Fondazione Cari Saldi Salerno consiste in pratica nel poter investire 50.000 euro virtuali in azioni Queste azioni erano all'incirca 150 ed erano basate sull'economia reale Insomma si può diventare anche ricchi, ci si arricchisce. Andrea, invece tra le varie iniziative anche quella dell'alternanza scuola lavoro? Sì, per vari progetti, varie attività di alternanza scuola lavoro abbiamo partecipato a vari incontri tra cui siamo andati presso l'azienda Valflex di Giffoni Vallepiana e abbiamo partecipato inoltre a un incontro presso Informa Giovani, uno spurtello comunale dove ci hanno illustrato le modalità per compilare un curricolo in vite. Insomma come sentite tante attività, come invece è previsto nella formula di viaggio nei quartieri andiamo anche a spulciare tra i vari cantieri della città di Salerno ci sono novità importanti per un cantiere fermo da tempo, quello del Palas Salerno Il 4 marzo verrà presentato un progetto che in qualche modo dovrebbe riattivare la realizzazione del palazzetto dello sport di Salerno Sarà presentato il prossimo 4 marzo a Salerno il progetto di finanza messo a punto con la supervisione del Comitato Olimpico Nazionale che darà una svolta al cantiere fermo da anni del Palas Salerno Dopo tanti anni di abbandono il palazzetto dello sport conoscerà il suo futuro l'intervento che sarà presentato alla presenza anche del governatore della regione Campania l'ex sindaco di Salerno Vincenzo De Luca e dal presidente nazionale del CONI in Malagò non punterà a completare il palazzetto così come progettato da Tobia Scarpa ma a realizzare una vera e propria cittadella dello sport Il pala Salerno è stato inserito tra le 20 opere sportive da ultimare in Italia grazie proprio a Malagò che in occasione di una visita al Marina di Arechi la scorsa estate fece una passeggiata e vide il cantiere abbandonato L'intervento porterà alla realizzazione come dicevamo di una vera e propria cittadella con tre palestre polivalenti, una sala scherma, sei campi da tennis il palazzetto vero e proprio da 2500 posti per basket, volley e palla a mano ed infine una piscina da 43 metri Il movimento ON si occuperà anche di controllare il buon proseguimento dei cantieri nella città di Salerno? Il movimento ON sarà appunto da Pungolo, sarà una sentinella sul nostro territorio il nostro programma è un programma aperto e modulare infatti ci si può collegare al sito e inviare quelle che sono le proprie idee per la città Inoltre il nome ON deriva dal fatto proprio che siamo in una società ormai digitale ON significa essere accesi, essere connessi e tenere accesa la mente noi pensiamo che così come nella scuola oggi la nostra vera ricchezza sia proprio il capitale umano quindi il capitale di idee che noi possiamo mettere a disposizione per la nostra città A proposito di capitale umano e di tante attività che si fanno abbiamo ricordato la settimana dell'economia ma l'istituto genovese è stato protagonista anche di un'altra iniziativa Open Science, giusto Alessandro? Sì, veramente il liceo da Vinci Vabbè, io mi imbroglio, perdonatemi Ovviamente questa iniziativa è stata un nuovo metodo un nuovo modo di apprendere comunque diverso dalla solita lezione frontale comunque diverso dalla solita metodologia di apprendimento Insomma, come hanno fatto al Genovesi per l'economia anche al Da Vinci avete aperto una finestra in questo ambito da un punto di vista diverso Sì, praticamente si è strutturato di tre incontri vertenti su altre tematiche principali della scienza con tre professori di Università di Salerno di chimica, fisica, quantistica e anche sulle tecnologie rinnovabili e ovviamente avere degli incontri con quelli che fanno con gli scienziati che mandano avanti la ricerca di persona è molto diverso dal fare lezioni in classe Antonio, anche tu mi volevi parlare di un'iniziativa che fate tra le vostre aule Una serie di eventi di tipo culturale sempre che si stanno svolgendo e si svolgeranno nel prossimo futuro, nella nostra scuola Il progetto si chiama Saper e Aude Sono degli eventi, il primo che si terrà tenuto dal giudice Morlini e gli altri due che saranno tenuti riguardo la lingua e dal professore Sabatini e un altro invece che riguarderà il mondo della storia infatti dallo storico Barbero Tre incontri di tipo culturale che potranno aprirci un altro mondo che non è semplicemente quello scientifico nonostante il nostro sia un liceo di questo genere Insomma, Preside Nicola Annunziata c'è materia per parlarne? Lo diciamo anche ai giornalisti che in qualche modo a partire anche dalla partecipazione del Vescovo sono stati visti un po' come quelli che non mettono pace dopo il brutto episodio Voltiamo pagina anche noi invitiamo tutti a seguire tutti questi eventi importanti perché il genovese, il liceo scientifico Da Vinci insomma raccontano tante storie belle Io penso di sì, li abbiamo sentiti un po' tutti quanti il mio rapporto con la stampa non è stato negativo Assolutamente, tant'è che siamo qui Diciamo anche in momenti così terribili come quello che abbiamo attraversato non abbiamo mai cercato di chiudersi noi stessi insomma un po' nel bene e nel male direi come dicevo prima lo scopo è quello di andare avanti insomma abbiamo in calendario tra l'altro appunto come hanno detto i ragazzi degli eventi secondo me di spessore un po' a 360 gradi direi sia per l'istituto tecnico, il settore economico sia per il liceo scientifico sono scuole che voglio aggiungere veramente radicate nella nostra città il genovese penso che abbia una storia all'incirca centenaria ma anche il liceo Da Vinci sta qui da tanti anni insomma abbiamo avuto tanti studenti E' pronta a crescere la popolazione salernitana nel miglior modo possibile Abbiamo avuto tanti studenti bravi e ne assi amamenti a un coro e ne avremo in futuro E noi penso che oggi abbiano superato però se stamasturzo ce lo confermi in modo buono questo esame io l'ho chiamato un esame di maturità nella preparazione che abbiamo fatto perché non è facile mettersi davanti la telecamera anche in un momento, in un contesto difficile per la scuola e raccontare le tante facce buone vorrei chiudere perché so che Stefano voleva aggiungere una cosa prima di salutare i nostri telespettatori Stefano Trapanese? Sì, è un invito a tutta la città a partecipare quindi collegarsi a questo sito darci il loro contributo è un nuovo modo di fare cittadinanza attiva noi siamo da sempre impegnati nella cittadinanza attiva e quindi partecipate E anche noi invitiamo come sempre chi vuole segnalarci particolari disagi o vuole dire la sua proposta per migliorare la vibra di Salerno accontantarci a redazione che ho c'è la tvogisalerno.it questa puntata sarà visibile sul sito tvogisalerno e sulla nostra pagina Facebook torniamo la prossima settimana con una nuova tappa del nostro viaggio nei quartieri grazie per averci seguito arrivederci Grazie per averci seguito Grazie a tutti